La squadra mobile di Salerno ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di dieci persone, tra cui alcuni presidenti di società cooperative e sociali del capoluogo salernitano e pubblici ufficiali responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, turbativa del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Nell'operazione che vede indagate nel complesso 29 persone sono state eseguite anche perquisizioni locali e a soggetti non destinatari di misure cautelari. Coinvolto anche l'ex assessore comunale di Salerno e attuale consigliere regionale Nino Savastano agli arresti domiciliari tra le accuse anche corruzione elettorale. Arrestati anche Fiorenzo Zoccola e il dirigente del settore ambiente del comune di Salerno Luca Caselli, per Fiorentino Zoccola, gestore di fatto di diverse altre cooperative che avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del comune di Salerno, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per Luca Caselli sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nei confronti degli imprenditori di fatto titolari delle cooperative è stato invece disposto il divieto di dimora nel comune di Salerno.